Oggi ragazzi mi vedrete fare una cosa che non faccio praticamente mai Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un nuovo video del Santone dello Svapo Oggi vi parlo di un nuovo prodotto di DigiFlavor Lo Z1 SBS Kit con Siren 3 Ora lo andiamo a vedere da vicino, poi prova di svapo e considerazioni finali Ecco a voi la scatola dello Z1 SBS Kit di DigiFlavor Scatola rossa e bianca, da questa parte leggiamo la scritta DigiFlavor Sul retro leggiamo la scritta Sample, una breve descrizione del kit, l'indicazione del colore e i vari marchi Aprendo la scatola come prima cosa vediamo la mod che è composta da box side by side e Atom E al di sotto abbiamo un vetro di ricambio e il pacchetto con gli accessori All'interno del pacchetto troviamo del cotone, cavo di ricarica USB-USB-C, silica gel, multitool, guarnizione di ricambio e viti Inoltre abbiamo questa scatolina che ci dà un bel po' di resistenze da andare a provare all'interno del nostro Atom Tutte resistenze per lo svapo di guancia, vedete alcune in i80, alcune in acciaio 316 E ovviamente con valori differenti, sono 4 pezzi per modello, si vedete 4 pezzi, 4 pezzi, 4 pezzi e 4 pezzi Rispettivamente da 0,65 ohm, 0,5 ohm, 1 ohm e 2 e 1 ohm Io andrò ad utilizzare quella da 1 ohm, la Fused Clapton Ora ragazzi vi faccio dare un'occhiata così veloce al coil e vedete che qui avete tutto quello di cui potete avere bisogno A meno che non vogliate rigenerare a filo singolo e in quel caso dovete costruirvela voi Diamo uno sguardo veloce al prodotto nella sua totalità, possiamo subito vedere che il drip tip è qualcosa di orrendo e inguardabile Però ragazzi, a parte quello che si può cambiare, il resto insomma non sembra poi così male La box ha delle belle finiture, se non ottime, il peso non è assolutamente eccessivo Purtroppo all'interno della scatola non c'è nessun manuale utente Quindi insomma dovrò cercare di estrapolare tutto tramite la mia esperienza diretta sul prodotto Al di sotto vediamo un attacco USB-C, ovviamente marchio CE e marchio smaltimento Quello non è un meno ragazzi, sappiatelo Designed by DigiFlavor e made in Cina Inoltre qui abbiamo tre fori di sfiato Qui invece c'è il pulsante di attivazione, tasto meno, tasto più e display Interessanti queste finiture che possono piacere oppure no Però ragazzi vi dico che è tutto ordinato e tutto ben fatto Al di sopra abbiamo il tappo per la batteria Qui abbiamo un chiaro simbolo meno e all'interno abbiamo il simbolo più Inoltre è contenuta anche la sleeve per le batterie Questa qui non è una sleeve adattatrice ma serve solo ad isolare il corpo della box dal vano della batteria Inoltre smontando l'atom andiamo a vedere la tazza che è con attacco 510, pin flottante e placato Vi do un dettaglio anche sull'interno, insomma è tutto costruito assolutamente bene ragazzi Su questo non c'è nulla da dire Veniamo ora all'atomizzatore che a parte avere un drip tip veramente piettoso E insomma anni 2010 fondamentalmente Non so che non vedevo un tip del genere, era veramente 10 anni ormai Però al di sotto abbiamo il foro per l'aria ma non c'è solo questo Perché da quest'altra parte abbiamo una grande asola I fori in totale sono 1, 2, 3, 4 e 5 Potete parzializzarli in questa maniera oppure continuando a girare Vedete che potete andare a chiuderli singolarmente con quest'altro forellino Al di sotto vediamo il nome dell'atom che è il Siren 3 di Digiflevor Ovviamente i vari marchi e i seriali Qui abbiamo un altro pin placa toro 24 carati con attacco 510 Per smontare il deck da tutto il corpo del tank Basta svitare in questa maniera Qui sotto abbiamo la guarnizione Qui ci sono i fori per l'aria E questo qui ragazzi è il nostro deck Deck fatto per single coil E il cotone va fatto cascare qui e da quest'altra parte Invece per quanto riguarda il tank ragazzi Questo è l'interno della campana Poi noi possiamo andare a svitare in questa maniera Che è poi un attacco a baionetta E qui abbiamo le asole per la ricarica Purtroppo non avendomi detto da quant'è il tank Non vi so dire quanti ml contenga Però penso che siamo all'intorno 3-4 ml Ora ragazzi ho montato l'atom su di una box Per andare a rigenerarlo e farvelo vedere E andiamo a svitare i grani sia da questa parte che da quest'altra Andiamo a montare la resistenza La coil va montata Quelle che ci danno loro Con le gambette vedete verso l'alto A me sta cosa obiettivamente non piace per nulla Però insomma ce la faremo andare bene Andiamo a centrare in questo modo Poi andrò leggermente a tirare su io la coil successivamente Per sistemarmela come voglio io Comunque gambe verso l'alto E andate a chiudere Ovviamente adesso io ragazzi lo sto rigenerando in questo modo Per farvi vedere tutto quello che ci danno loro E come funzionano le cose che ci danno loro Ma nulla vi vieta Se non vi va di mettere le gambe della coil in questa maniera Di semplicemente riavvolgere il filo O farvi una coil voi per i fatti vostri Comunque ragazzi purtroppo siamo di fronte a un fatto tecnico proprio sbagliato Insomma questi qui vi danno le coil in questa maniera Vedete che vanno quasi a toccare sui fori dell'aria Quindi adesso andrò a svolgere tutta questa resistenza E l'andrò a fare come Cristo comanda Perché veramente questi vi danno delle coil E non pensano neanche come hanno fatto il deck Insomma complimenti Io tengo tutto largo come il mio solito Perché mi trovo meglio o mi piace di più fondamentalmente Nulla vi vieta di fare una micro coil Ora andiamo a mettere il cotone Il cotone che ci danno loro è in batuffolini Di questo tipo Quindi li andate ad aprire In questa maniera E prendete il cotone che vi serve Sappiate che in questo caso La punta è da 2,5 Quindi insomma ce ne vorrà un po' Come cotone non mi sembra malaccio questo Anche se io sono solito ad usare altro Però ragazzi il fatto sta che si lavora Molto semplicemente come tutte le altre volte Togliete le parti in eccesso Cercate di tenere le fibre tutte nello stesso verso E aggiustatelo per il diametro interno della vostra coil Quindi classica punta Inserite Tirate Verificate che ovviamente Stringa a dovere E poi non dovete fare altro che mettere il cotone giù In questa maniera E andare a tagliare A questo punto Prendo il poddino E vado a bagnare Di modo che il cotone rimane più dove voglio io E possa sistemarlo In maniera più pratica Diciamo Intanto faccio anche una prova di attivazione veloce Qua funziona tutto Io adesso sono bassissimo Con i watt Quindi è normale che poi andrà molto Sarà molto più Avrà molto più sprint Insomma di così Quindi sistemiamo il cotone In questa posizione E semplicemente ragazzi Richiudiamo il tutto A questo punto vado ad aprire E vado a riempire il mio tank Una volta riempito Si chiude in questa maniera E ora ragazzi È il momento della box Vado subito ad aprire E inserisco immediatamente la batteria Qui fate pressione Fate sì che il filetto prenda Perfetto A questo punto Monto anche l'atomizzatore Così posso farvi vedere subito Le funzionalità della box Io in questo caso Sono settato su questo foro Ma poi potrò andare a spostarmi Ok vedete È un po' difficile Vi dico Andare a regolare questa ghiera Con l'atom montato Insomma farete le vostre regolazioni Smontando l'atomizzatore Qui sopra abbiamo Una plastica Che protegge Il display 5 clic per accendere Viene fuori scritta Digi Flavor Vengono fuori I Volt Gli Ohm E i Watt Il minimo è 5 Watt E il massimo è 80 Lì abbiamo anche L'indicazione di carica residua Della batteria Facendo tre clic Invece su questo pulsante Entriamo all'interno Di un menu Vedete che possiamo scegliere Tra Power Bypass Oppure Volt Io mi vado a mettere in Volt Perché è una modalità Che apprezzo particolarmente Tenendo premuto Andate a confermare Ora dobbiamo assolutamente Abbassare Qua 8 Volt Allucinante proprio Vedete che lì in alto Si muovono anche i Watt Di conseguenza Io andrò sui 3,7 Più o meno 4 Facciamo così 3,8 E tagliamo la testa al toro Poi mi andrò a sistemare In relazione a Quello che ci sarà bisogno Insomma 1 Ohm E 0,8 E' venuto il valore Della resistenza E siamo a 13,3 Watt Premendo tasto più e meno Contemporaneamente Andiamo a bloccare Vedete che la selezione Del più e del meno Non si può usare Ma si può usare Il Fire Ora vado a ripremere Ovviamente così Sblocchiamo E basta ragazzi Il circuito è tutto qui Fondamentalmente 3 modalità Molto semplice Niente di Particolarmente complesso Da utilizzare E avete comunque Uno schermo che è piccolo Però vi dà Tutto quello che vi serve sapere Il peso della box È 232.2 grammi Non sembra eccessivo Nelle mani Vi dico la verità Qui ovviamente Parliamo di box E atom Solo box Sono 143.2 Insomma ragazzi Non è Non è tanto Non è nemmeno poco Però Se vogliamo una roba Di questo tipo Insomma Scendere col peso È abbastanza dura Ovviamente Ah ora vediamo Che ci dice Che la coil è nuova Vi chiedo scusa Se non vi do Le dimensioni Ma Ho il calibro Scarico Ragazzi Quindi troverò Il modo magari Di inserirvele Andando a cercare I dati In un secondo momento Concludendo Il prodotto Come finiture È fondamentalmente Perfetto L'estetica È chiaro Che è personale Quindi può piacere O no Personalmente Trovo questo drip tip Un pugno Un pugno in un occhio Ma insomma Lo possiamo anche Andare a cambiare Quindi ragazzi A noi non resta Che andare alla prova Di svapo E alle considerazioni finali Ragazzi Ragazzi Beh insomma Potete usarle Come no Potete usare Coil che volete voi Eccetera eccetera Ma l'atom Si rigenera Veramente In maniera Super semplice E lo considero Un atomizzatore Molto adatto Per le persone Che sono alle prime Rigenerazioni Il problema E non a caso Ragazzi Non a caso Il problema È questo drip tip Questo drip tip Oltre al fatto Di essere Inguardabile Obiettivamente Questo è un mio Punto di vista Quindi obiettivamente Sto spingendo Un po' troppo Però è veramente Per me Inguardabile Ma Fa calare In una maniera Impressionante L'aroma All'atom Allora L'atom L'ho tratto per ultimo Però Andiamo alla box La box ragazzi È perfetta Il circuito È facilissimo Da usare Funziona da dio Gestisce bene Le batterie E veramente È un circuito La portata Di tutti Se vi piacciono Le side by side Ovviamente Ci sono altre Colorazioni Non c'è solo questa Però vi dico Che le finiture Indipendentemente Dall'estetica Ragazzi Sono veramente Perfette Quindi La box Passa Dal mio punto di vista Con un 9 Ok Non gli do un 10 Perché potrebbe pesare Di meno di così Se fosse fatta Con altri materiali E io non sono Uno estremamente Legato Ad avere a tutti i costi Del metallo Vi dico la verità Però Per come fate ragazzi Un 9 Se lo merita Proprio occhi chiusi Cioè le finiture Tenete conto 9 E tenendo conto Del peso E tutto il resto Ma le finiture Ma le finiture Sono da 10 Il prodotto È realmente Perfetto L'atomizzatore È ottimo Facilissimo Da rigenerare Con sto drip tip Veramente Se poteva Prendere 10 Dal mio punto di vista Prende un 8 Come configurazione Ragazzi Siamo tra l'8 E il 9 Per quanto riguarda Tutto il pacchetto Ok Più sul 9 Che sull'8 Onestamente Perché Comunque Sì è vero C'è un po' di peso Ma la semplicità Di utilizzo E come funziona Questo tank Che funziona Veramente da dio Ed è facilissimo Da rigenerare Fa sì che comunque La box Prenda un voto alto O meglio Il pv Ok Tutto il vaporizzatore Personale Quindi Possiamo considerare Chiusa qui La recensione Perché adesso Farò una cosa Che solitamente Io non faccio Andrò a cambiare Questo drip tip Perché Ho detto Cavolo ragazzi Cioè bastava Così poco Per fare Un prodottone Ok Vedete com'è il prodotto Tolgo il tip Prendo un tip Dello sprint Di Luca Creation Sono alcuni Dei miei tip preferiti Questi Già esteticamente Diventa Un'altra cosa A livello di hit E a livello di aroma Ragazzi Dal mio punto di vista Siamo su un altro pianeta Sinceramente Perché questo Vi abbassa l'hit È scomodo Se vi sbattene i denti E una roba del genere Proprio Mi dispiace Ma io questo Non lo mando giù Ma qui siamo davvero Su un altro pianeta Ok Io questa Però la voglio Tenere fuori Dalla recensione Perché voglio recensire Solo quello Che mi ha dato loro Però ci tenevo A farlo presente Perché ragazzi Tante volte Con un piccolo particolare Diverso Possiamo veramente Avere un prodotto Molto superiore E in questo caso È solo un drip tip Qui siamo già superiori Solo come estetica Dal mio punto di vista Ma se l'avete a casa Fate la prova Come aroma E it Andiamo quasi Su un altro pianeta Tra virgolette Perché l'hit aumenta Parecchio E l'aroma Aumenta Parecchio È chiaro Con le coil Che vi danno dentro Adesso torno un attimo Nella recensione Con le coil Che vi danno dentro Ragazzi Avete un vapore Molto cremoso Saturo Ok Grasso Compresso Tra virgolette Ok Per usare termini Che si usano Nella produzione musicale Però veramente Saturo Compresso E bello Ciccione No Umido E con anche Un buon hit Con questo Con questo qua Andate su un altro livello Peccato ragazzi Che Questo Non sia Il suo tip Veramente Il suo tip È questo E la mia valutazione Con questo tip Obiettivamente Si ferma Tra un 8 E il 9 Ok Con un altro tip Veramente Questa diventa Una cosa Seriamente Da prendere in considerazione Ragazzi Tutto questo Solo per farvi capire Che tante volte Basta poco Digiflavor Basta Poco Un tip Così È veramente Uno Fa calare l'aroma Ma fa calare l'hit E due È inguardabile E scomodo Quindi spero che Lo cambierai Basta ragazzi Io non ho nient'altro A aggiungere Vi ringrazio Spero abbiate capito Il mio discorso Io vi saluto Come al solito Con l'ultima svappata E che lo svappo Sia con voi Ciao ragazzi Sia con l'almostrino Criuli L'almostrino Sia con l'almostrino Sia con il Sia con l'almostrino Grazie.